Benvenuto in questo nuovo video, oggi parliamo delle top abilità che ti servono per lanciare con successo la tua carriera da social media manager nel 2021. Partiamo dalla prima che è il lavoro smart. Molte persone confondono il lavoro smart, il cosiddetto smart working, con il lavoro da remoto. E per mesi c'è stata proprio questa incomprensione. Molte persone parlavano di lavoro smart quando invece si trattava di lavoro da casa. Quindi lavorare smart cosa significa? Significa avere flessibilità e autonomia. Smart significa intelligente, significa che organizzo la mia giornata e soprattutto vengo pagato in base agli obiettivi e non alle ore di lavoro. Quando invece si tratta di portare il lavoro dell'ufficio a casa e fare le stesse identiche ore dell'ufficio, allora lì non si parla di lavoro smart ma si parla di telelavoro, di lavoro da casa. Questa è la prima capacità che devi sviluppare. Da social media manager è importante che tu sappia come trovare clienti, generare quindi contatti e acquisire questi clienti lavorando completamente da remoto. E poi è importante che tu sappia come gestire i social e gli e-commerce di questi clienti organizzando però la tua giornata in anticipo e soprattutto gestendo il tuo tempo e il tuo lavoro. Questa è la prima capacità altamente monetizzabile che ti serve per iniziare con successo la tua carriera da social media manager. La seconda grande abilità, questa è una novità, è il social e-commerce. Cos'è successo nel 2020? Che i grandi social hanno annunciato la nascita di Shops. Shops è il programma di Facebook e Instagram che permette a tutte le attività di creare un e-commerce dalle loro pagine social. Novità assoluta che apre una serie di opportunità perché prima il mondo dell'e-commerce era molto chiuso, cioè l'e-commerce lo poteva avere chi? Beh, chi aveva un'azienda che comunque fatturava decine di migliaia di euro al mese proprio perché ha dei costi di apertura, dei costi di mantenimento che magari il piccolo imprenditore, la piccola impresa non è in grado di sostenere. Col social e-commerce invece il mondo dell'e-commerce arriva a tutti e cadono anche un po' tutti i pregiudizi legato al mondo della vendita online, soprattutto perché il piccolo imprenditore o il libero professionista ha già, diciamo, un po' di confidenza con i social e quindi è in grado di aprirsi il proprio social e-commerce a costo zero. Quindi questa è una grande novità, però genera poi una necessità nuova, cioè quella di avere qualcuno in grado di promuovere e ottimizzare questi social e-commerce. Quindi il social media manager che nel 2021 capisce come utilizzare il social e-commerce, come promuovere queste pagine e generare vendite, avrà sicuramente tantissime richieste di collaborazione. Il terzo trend più importante ed è una novità assoluta è il VR e-commerce. VR sta per realtà virtuale, virtual reality. Ora è molto presto per immaginarsi un e-commerce dove le persone si mettono il visore o gli occhialini e vanno a fare la spesa in realtà virtuale, però ti posso garantire che stiamo andando in quella direzione. Non accadrà dall'oggi al domani, accadrà probabilmente nei prossimi anni lentamente, però stiamo andando nella direzione del bisogno di esperienze virtuali da parte dell'utente. Cosa è possibile fare però già adesso? Già ora è possibile, attraverso alcuni software che insegniamo all'interno dei miei corsi, in modo ultra semplice, anche con solo il proprio telefono, creare esperienze virtuali in 3D, dove l'utente può per esempio entrare in un negozio di abbigliamento dal proprio telefono, andare in giro e vedersi i prodotti che gli piacciono, andare a vedersi le camicie, le magliette, ruotarle, muoverle, muoversi nello spazio e quindi si crea un'esperienza interattiva, divertente e soprattutto ad alta conversione. Stiamo andando in questa direzione con l'integrazione tra realtà virtuale e realtà aumentata e l'e-commerce e questo è un grandissimo trend che chi è in grado di comprendere e sfruttare veramente lo aiuterà moltissimo a posizionarsi al di sopra di qualsiasi social media manager e veramente farsi spazio ed emergere nella nuova economia digitale. Quindi se ti interessa capire al meglio come sfruttare questi 3 trend e lanciare con successo la tua carriera da social media manager, ho lasciato qui in descrizione il link per la nostra Accademia SMM. Accademia SMM è un percorso di alta formazione di 8 settimane che ti guida in ogni singolo passo per lanciare con successo la tua carriera da social media manager. All'interno facciamo simulazioni guidate, quindi avrai la possibilità di lavorare su degli e-commerce reali, avrai la possibilità di gestire pagine Facebook e Instagram di aziende vere e soprattutto fare pratica all'interno di un ambiente protetto che ti invita ovviamente a buttarti a fare già esperienza, a fare pratica per poi terminare le 8 settimane di Accademia con competenze pratiche che ti servono e che puoi sfruttare immediatamente nel mondo digitale. Ho lasciato qui in descrizione tutte le informazioni e c'è il link diretto per scoprire il programma completo di Accademia. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo all'interno! Grazie a tutti!